I carabinieri della compagnia di Burgotaro hanno posto sotto sequestro oggi dieci cimiteri della provincia di Parma. Il sequestro è riconducibile alla scoperta nel novembre scorso di sette bare a Rocca Murata. Un sabato sera con i volontari della protezione civile di Burgobalditaro a Mirandola, uno dei comuni emiliani più colpiti dal terremoto, trascosse, sfollati, angeli e demoni. Dalla provincia di Parma arrivano 145 mila euro per 33 aziende agricole a rimborso dei costi sostenuti per aderire ai sistemi di qualità alimentare. Le domande sono state tutte finanziate. Il museo Gli Orsanti e il gruppo musicale Mepec e Barba uniti dalla stessa ricerca musicale che ha radici lontane nella storia popolare degli emigranti girovaghi di origine parmense. L'amministrazione comunale di Bardi organizza un incontro di presentazione dell'ordine del giorno, osservazioni sull'impianto parco eolico di Burgotaro che si terrà giovedì sera. Tra le tante novità che riguardano la società Santa Maria San Salvatore, la più importante è l'ingaggio per il settore giovanile dell'ex calciatore di Serie A Costanzo Ceresini. Buonasera telespettatori di RTA, ben trovati all'informazione locale. Questa sera apriamo il nostro telegiornale con un reportage di Mauro Del Grosso che come vedrete è molto interessante. Del Grosso infatti ha seguito un sabato sera e un sabato notte un gruppo della protezione civile di Burgotaro a Mirandola che è uno dei centri emiliani più colpiti dal terremoto dello scorso maggio. Ebbene, vedrete e sentirete soprattutto nel racconto di Mauro Del Grosso la vera disperazione, quella che i media nazionali purtroppo non ci fanno conoscere. Un sabato sera diverso con la protezione civile, con i ragazzi dell'assistenza pubblica che sono andati a Mirandola, uno dei centri del terremoto maggiormente colpiti dal terremoto. Cosa hanno fatto i ragazzi? Sono andati, hanno portato le attrezzature, hanno portato dei viveri, degli aiuti e soprattutto hanno costruito un pavimento a sostegno delle cucine di protezione civile. Quelle cucine che hanno dato da mangiare anche a mille persone in un giorno. Mille persone che, come scopriremo, non erano solo dei terremotati, erano anche gente che purtroppo ha approfittato di questa situazione per andare a mangiare gratis. Ma questo è uno dei tanti temi che abbiamo affrontato in una notte, partendo da Borgotaro alle 8 e arrivando all'alba il giorno dopo. Un percorso difficile che ha attraversato l'Emilia il sabato notte e che è passata dalla luce dei riflettori dell'autosole, degli autogrill, dei posti dove la gente si diverte, al buio totale delle zone terremotate, dove esiste solo un po' di illuminazione pubblica, dove la gente si muove in bicicletta a piedi, come la paura negli occhi non solo del terremoto, perché lì la situazione qui in Emilia Romagna è tragica, è tragica anche sotto il profilo della sicurezza delle persone. Di notte non c'è nessuna sicurezza, rubano, rubano tutto quello che si trova in giro. C'è gente che ha rubato le divise della protezione civile e si presenta nelle case. Si presenta e ruba. Ruba a gente a cui non è rimasto nulla. Tensioni, tensioni etniche, quando noi siamo passati nel campo Friuli, quello organizzato dalla regione Friuli, Venezia e Giulia, c'era una rissa, proprio in quel momento, c'era una rissa tra cittadini extracomunitari. Il motivo non lo si sa, era mezzanotte, era mezzanotte e mezzo, c'era una musica, una musica di una festa e qualcuno alzava una gran polvere perché litigava. E a questo punto le forze dell'ordine sono dovute intervenire per sedare una rissa, una lite. A ogni incrocio una macchina della polizia, una macchina dei carabinieri, una macchina della forestale che controllava i documenti di chi girava. Anche intorno all'ospedale da campo, quello che è stato inaugurato a Borgotaro due anni fa, gonfiabile. All'interno di questo ospedale da campo c'era gente che partoriva, c'era gente che moriva, c'era gente che andava al pronto soccorso perché aveva un braccio rotto, un dito rotto mentre lavorava oppure mentre cercava di spostare le macerie. E tutto intorno l'assalto, l'assedio di macchine improponibili, vecchie macchine sgangherate, con sopra gente assolutamente brutta, brutta da vedere, con uno sguardo cattivo che cercava di fare qualche cosa verso l'ospedale. Che cosa? Ad esempio la farmacia, la farmacia piena di farmaci, piena di stupefacenti, piena di morfina, piena di prodotti per alleviare le sofferenze di quelli che stavano male e che potevano servire ai disperati della notte che cercavano qualche cosa per passarla meglio. La cosa più spaventosa è il silenzio. Il silenzio è il buio. Il buio, il silenzio delle case che a mezzanotte e del sabato non davano un segno di una televisione, di una radio, non c'erano bambini. La gente correva da un punto all'altro, da un punto luminoso all'altro, i pochi punti luminosi rimasti. Quindi sotto i lampioni, come delle farfalle, come delle falene, le persone si ammucchiavano, si ammucchiano, cercano di avere ancora una socialità. C'è un solo bar aperto pieno di persone, pieno di persone che però comunicano in maniera un po' strana. La paura del terremoto c'è costantemente. Noi appena arrivati abbiamo sentito una scossa, leggera, terzo grado, però una scossa. Il benvenuto ci è stato dato immediatamente. Ci sono persone che sono ormai settimane che vivono con questo terrore. Non dormono, dormono di giorno perché pensano che il terremoto li possa cogliere nel sonno di notte. Il terremoto non ha orari. E poi l'umanità dei volontari, come i nostri, che si sacrificano, sacrificano la notte intera e beffa quando tornano gli fanno anche pagare il biglietto dell'autostrada, anche se avrebbero diritto a non pagarlo, o comunque ad avere un rimborso. Alla fine fanno spallucce, se ne fregano, si faranno rimborsare, forse sì, forse no. Alla fine 20 euro ce li hanno ancora. Hanno speso ben di più in una notte di fatiche e tutto sommato anche di contrasti. Contrasti che però sono ripagati dal sorriso, da un grazie a dire persone che hanno bisogno. Perché in questa situazione si vede proprio la doppia anima della nostra società. Ci sono i diavoli, ci sono quelli che si mettono una divisa fasulla per andare a rubare in casa, a rubare in casa dei terremotati. Ci sono quelli che hanno uno sguardo che non è per niente rassicurante nel buio della notte e che è uno sguardo che fa presagire brutte cose, gran brutte cose. Dall'altra parte ci sono i volontari, c'è gente con le vesciche ai piedi, le vesciche nelle mani, che dorme tre ore, quattro ore per notte e che ha sempre il sorriso pronto per tutti. E poi i climatizzatori, il caldo, il terreno che è a 47, 50 gradi, che durante la notte restituisce tutto quello che ha preso di giorno e che fa bollire le tende, le fa veramente diventare dei forni. All'alba diventano ghiacciate e fino alle 2, alle 3 sono bollenti, soprattutto quelle pneumatiche, dove si fa dentro sanitario. E quindi bisogna comprare i climatizzatori, vengono regalati, però tanti climatizzatori non fanno reggere gli impianti elettrici, quindi un gatto che si morde la coda. E quindi cortocircuiti, cose che si fermano, guasti e tanto tanta temperatura. Polemiche coi dottori, polemiche coi paramedici, perché è una guerra tra poveri. Anche questo è un segno della disorganizzazione del nostro Stato. E poi la disperazione delle persone. Qui se entro 3 o 4 mesi non riparte tutto, non riparterà mai più niente e nulla, perché è un deserto totale. Bisogna andarci per capire cosa succede, per capire cosa è successo e cosa potrebbe succedere a tutti noi. È solo una questione di fortuna. Cioè il terremoto è caduto lì, in una parte ricca dell'Emilia-Romagna, di una parte di gente per bene che si è sempre data da fare. Ed è stata colpita prima dal terremoto e poi da questa disorganizzazione sociale che da un lato vede i volontari come degli angeli, dall'altro lato ci sono dei bestie, degli animali, degli esseri umani indicibili che si approfittano, si approfittano di questa situazione. Siamo nel 2012, non siamo alla fine del secondo conflitto mondiale, non siamo in una situazione di crisi per cui la gente muore di fame. C'è gente che è andata a rubare il pasto a dei terremotati per riuscire a risparmiare pochi euro. Cinesi, marocchini, diciamo quali sono le etnie che hanno fatto queste cose, diciamolo apertamente, perché hanno organizzato i pulmini, si sono mandati gli sms e intere famiglie sono andate a mangiare alle mense della protezione civile. I media nazionali non lo dicono, noi lo diciamo, perché è quello che ci hanno detto i volontari, è quello che ci hanno testimoniato tutti, nessuno si è permesso di dire qualcosa di contrario, anche i terremotati. E il ritorno, il ritorno della notte cosa succede? Passi dall'albuio, dal silenzio, dalle falene che girano, da queste falene umane che girano intorno ai lampioni e dove si arriva, si arriva di nuovo nella civiltà. A 100 chilometri, che tutto sommato è assolutamente indifferente a quello che è successo nel cuore ricco, nel cuore produttivo dell'Emilia Romagna. Che in maniera indifferente, perché poco per volta tutti se lo stanno dimenticando, tutti dimenticheranno perché Emilia si stanno allontanando, continuerà a vivere nella indifferenza più totale. L'Aquila è una città morta, non è più nata. L'Aquila ci girano solo cani e gatti, neanche quelli, perché non ci sono neanche più topi da manzare. Cosa succederà alla nostra Emilia? Svolta nelle indagini che nel novembre scorso portarono i carabinieri di Burgotaro a fare la macabra scoperta a rocca murata di ben sette bare, probabilmente proveniente da alcuni cimiteri della bassa Valtaro, abbandonati a cielo aperto, una delle quali risultava aperta. L'intera zona venne allora messa sotto sequestro. Oggi, a sette mesi di distanza, sempre i militari della compagnia del capoluogo valtarese hanno posto sotto sequestro ben dieci cimiteri della provincia di Parma. I carabinieri indagano sul modo, forse non legittimo, con cui sarebbero stati smaltiti i contenuti dei loculi e degli ossari. Maggiori dettagli nelle prossime edizioni dei nostri Tg. Rientriamo in studio e parliamo di Burgotaro, del comune che intende alienare a mezzo di asta pubblica che si terrà il 26 luglio un appartamento di edilizia residenziale pubblica con annesso garage posto in Viale della Libertà al numero 34. Il prezzo a base d'asta è di 72.900 euro. Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12 del 25 luglio. Per informazioni dovete chiamare la responsabile del settore affari generali Angela Bicocchi allo 0525 92 17 04. Dalla provincia di Parma arrivano 145.000 euro per 343 aziende agricole. Ha rimborso questi soldi, dei costi sostenuti per aderire ai sistemi di qualità alimentare. C'è da sottolineare una notizia positiva. Sono state finanziate tutte le domande presentate. Oltre 145.000 euro per 343 aziende agricole del territorio. È stata approvata nei giorni scorsi dalla provincia la graduatoria relativa alle domande presentate entro il 31 marzo scorso della misura 1 tra i 2 partecipazione degli agricoltori a sistemi di qualità alimentare del PRIP, il programma rurale integrato. I finanziamenti andranno a rimborsare i costi sostenuti nel 2012 dalle imprese agricole per aderire ai sistemi di qualità alimentare. In particolare i contributi che coprono il 90% delle spese sono stati concessi per i prodotti destinati esclusivamente al consumo umano ottenuti con metodi di produzione biologica, i DOP e i GP e per i vini DOC. Tutte le domande presentate all'ente di Piazza della Pace sono state finanziate. La graduatoria è consultabile su provincia.parma.it nella sezione Servizio, Uffici e Agricoltura, Bandi, Graduatori e Elenco, Graduatorie e Concessioni. È previsto per le 20.45 di questa sera presso l'asilo nido d'infanzia Latana a Borgotaro l'incontro con la pedagogista Elisabetta Nasuti sulle tema la gelosia tra fratelli. I genitori ovviamente interessati sono invitati a partecipare tra poco, lo ricordiamo, al nido d'infanzia Latana. E invece alle ore 21 di domenica prossima, primo luglio, presso la scuola di Anzola si terrà una interessante proiezione di un film, Un anno di scuola ad Anzola, a cura di Rocco Matteo Busi. Un appuntamento che vede il patrocinio del Comune di Bedogna e anche dell'Istituto Comprensivo del Paese. Tutta la cittadinanza, anche in questo caso, è invitata a partecipare.